Il safari di Ravenna riapre le porte in presenza per gli studenti universitari, in questo caso quelli di Milano e Camerino dell'International Veterinary Students Association. La giornata è stata l'occasione per toccare diverse tematiche, dal ruolo del medico veterinario all'interno di un giardino zoologico, agli aspetti gestionali e preventivi del safari, fino ai progetti di tutela e di conservazione delle specie protette. È una grandissima occasione per noi di spiegare qual è il ruolo del medico veterinario all'interno di un giardino zoologico. I veterinari hanno la tutela del benessere e della salute degli animali e in prima linea nei progetti di conservazione e progetti di condivisione delle specie selvatiche. Quindi veramente una grande occasione vedere tutti questi giovani e spiegare a loro con grande entusiasmo qual è veramente il ruolo e la passione del veterinario nel giardino zoologico. Ancora oggi in Italia una formazione specifica a volte è difficile da avere, ci vuole un percorso lungo basato principalmente sulla collaborazione e la condivisione. È per questo che il nostro giardino zoologico insieme ad altri si muovono proprio nel fronte dell'insegnamento del mestiere nel giardino zoologico. Grazie a tutti.